Siamo a Trito e prosegue questo tour delle giornate di raccolte straordinarie itinerante. Siamo con una rappresentante, un abitante di questa contrada che è la seconda come abitanti dopo San Marco di Locorotondo. Volevamo chiedere prima di parlare di questa giornata come sta andando. Si è partiti in campagna, c'era solo la compostiera per l'organico, poi si è passati almeno un giorno alla settimana a poter mettere anche fuori al porta a porta l'organico. Come sta andando? Vi trovate meglio? Cos'altro si può fare? Allora, in realtà io a casa ho la compostiera, quindi la questione del ritiro porta a porta dell'organico non lo faccio. Però, da quello che sento dire anche dagli altri abitanti, penso che sta andando bene, non ci sono lamentele. Anche perché c'era chi la compostiera o non sapeva usare o non aveva il tempo per poterla usare, no? Eh sì, anche per questo. Allora, il fatto che, diciamo, avendo aggiunto l'organico come ritiro, è stato anche tolto quindi il ritiro del secco. Diciamo, almeno dal mio punto di vista, non ci sono grossi cambiamenti. Ecco, quindi per quanto mi riguarda, tutto nella norma, tutto va bene. Queste giornate informative, nonché straordinarie per portare, per dare qualche piccola premialità, sono importanti? Bisogna sempre tenere informate alla gente o no? Certo, sì, in un modo per incentivare anche le persone a riciclare di più, a rendere il paese sempre più ecologico, più pulito. Riciclare e stare più attenti, forse? Certo, sì. Va bene, grazie Marilena, insomma, da Trito è tutto, ci vedremo, insomma, ancora a Trito come in tutte le altre contrade. Giovanni Di Marco, oggi siamo a Trito, prosegue questo tour, è importante, non sempre tanta gente segue, a volte ce ne di più, a volte ce ne di meno, però è importante da parte di chi opera, come la Montego da tanti anni, informare sulle novità, informare anche sugli eventuali errori che a volte anche per non conoscenza vengono fatti. Perciò di tanto in tanto bisogna farsi lo suo giro. Sì, ogni tanto bisogna rispolverare tutto il sistema come deve essere fatta la raccolta differenziata. Noi siamo propensi a farlo sempre, ogni anno giriamo tutte le contrade del Comune di Locorotondo, sempre in compagnia comunque del Vice Sindaco, Vito Speciale, che è molto attento alla questione ambientale. Anche quest'anno stiamo facendo questi tour, diciamo, nelle frazioni di Locorotondo. Quest'anno diciamo che stiamo programmando anche un ulteriore prelievo in tutto l'agro, dobbiamo dare un mastello per i pannolini e i pannoloni, che ovviamente quando abbiamo tolto dal sistema agro un secco e quindi per passare poi nell'agro con un passaggio dell'organico e quindi ora vogliamo modificare questo e fare almeno un passaggio ulteriore per il secco, però sempre per quanto riguarda i pannolini e pannolini a chi ne ha bisogno, perché sinceramente una volta a settimana è poco, anche se loro hanno l'opportunità di portarlo sette giorni su sette all'apertura al centro raccolta dove noi siamo autorizzati a raccoglierlo, oppure la sezione che non è differenziata e quindi il secco indifferenziato. Una domanda che è sulla forza queste giornate ma che è importante, si sta aumentando quello che si porta direttamente al centro di raccolta, che i cittadini portano direttamente al di là di quello che viene scaricato dai vostri camioncini. Sì, anche se abbiamo stoppato un attimino con la premialità che avevamo prima al centro raccolta quando venivano, poi si aveva una recurtazione addirittura fino al 30%, dal 50% sulla bolletta, comunque la gente risponde bene sempre anche senza questa premialità e noi abbiamo confermato pure nel 2022, abbiamo superato una media di 74% come media annuale del 2022, fra l'altro siamo tra i primi 20 comuni della Puglia che siamo sempre premiati per questo sforzo che fanno i cittadini e noi operatori che operiamo in continuazione e facciamo sì che questo servizio viene fatto nel miglior modo possibile. Grazie, Giovanni è un augurio che si entri addirittura nella top 10. Grazie a voi, grazie a tutta la cittadina di Logorotondo che risponde bene, all'amministrazione che è sempre vicina al nostro sistema. Grazie a tutti. Siamo a Trito, è la quarta tappa credo Vito, la terza nelle contrade di questo tour di sensibilizzazione, ci vuole sempre, anche se Logorotondo, come ha detto il responsabile Giovanni De Marco è nelle prime eventi a livello regionale col suo 74%, però ci vuole sempre sensibilizzazione per poter migliorare perché ci sono sempre margini di miglioramento e sensibilizzazione. Io sono abituato, sono quasi sette anni che ho questa delega, che mi appassiona, devo dire la verità, quella all'ambiente, però sono abituato a non abbassare mai la guardia, specie in tutti i nostri settori ma specie in questo, perché comunque il nostro territorio è vasto, le esigenze sono diverse e il servizio di raccolta rifiuti sappiamo benissimo che bisogna poi modellarlo in base al nostro territorio. Non è sufficiente arrivare alla percentuale di differenziata e quindi siamo quasi intorno al 75% a Logorotondo, dobbiamo impegnarci a migliorare la qualità del rifiuto riciclato. I nostri cittadini sono virtuosi, non tutti perché qualcuno poi non ha voglia di differenziare, ma la stragrande maggioranza dei nostri cittadini invece ha la pulizia, il decoro a cuore e quindi si ottengono poi i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono oggi qui, c'è questo discorso di poter portare determinate cose per pesarle, avere una piccola premialità e domenica invece ci sarà la giornata ecologica che porterà i cittadini direttamente a venire a collaborare per raccogliere i pesi e vinci, bisognerà raccogliere in determinate zone i rifiuti che ci sono, insomma si fa anche questo per poter permettere una premialità che prima c'era anche per il centro di raccolta, oggi non è più possibile, però i cittadini stanno rispondendo comunque. Sì, cerchiamo in tutti i modi di stimolare il territorio, i cittadini anche alla partecipazione di questi incontri, oggi siamo a Trito, la quarta tappa, venerdì 28 saremo in contradannunzio, devo dire che non tutti partecipano e devo dire che anche la stampa locale e qualche giornale preferisce evidenziare le negatività che sono per fortuna poche rispetto a questo tipo di iniziativa, io dico che il problema va combattuto se c'è un problema che può essere quello degli abbandoni, ma sicuramente non con i titoli di giornali ma piuttosto pubblicizzando questo tipo di eventi, perché con questi eventi che stiamo facendo oggi qui a Trito non facciamo altro che stimolare il cittadino a fare sempre meglio ed evitare che magari vengono effettuati gesti che magari come quello dell'abbandono, che sicuramente non fanno bene al nostro territorio e anche chi ci viene a visitare. Le novità sono quelle appunto del Porta Pese Vinci, sia durante questi incontri e sia domenica 30 aprile e quindi approfitto appunto di questa intervista per invitare tutti i cittadini di Locorotondo e non solo a partecipare. Anche in quell'occasione saranno effettuate delle pulizie sulla circonvalazione a squadre, le prime tre squadre che porteranno più peso vinceranno un premio. Appuntamento alle 9, inizio alle 9.30, la rotonda quella vicina proprio all'uscita del centro raccolta, no? Assolutamente, l'appuntamento è sulla rotatoria del centro comunale di raccolta dove c'è, giusto per avere come riferimento, la madonnina di Lourdes perché lì siamo in sicurezza dopodiché di là si partirà per andare in un senso e nell'altro opposto verso via Fasano e verso via Martina Franca e rendere pulita la circonvalazione. Scegliamo sempre la circonvalazione perché è quella che è più frequentata dai nostri camminatori giornalieri perché poi i veri camminatori fanno chilometri nelle campagne. Buon lavoro e buona comunicazione. Grazie, grazie.